Assolutamente no. Sono farmaci che spesso sono non solo tumore specifiche, però all'interno del tumore devono essere somministrati a tumori che abbiano certe caratteristiche molecolari. Quindi è importante non pensare che queste terapie siano la soluzione per tutti, ma che la scienza deve identificare il paziente giusto con la malattia adatta ad essere aggredita da queste molecole.